Devo dire che ho già avuto occasione di presentare il libro e l'ho definito un libro patriottico. Perché un libro patriottico? Perché per me il patriotismo è volere, desiderare fortemente che nel proprio paese le cose vadano bene e vengano fatte correttamente. Il libro descrive in maniera storica un fatto avvenuto inaccettabile, un qualcosa che non deve avvenire, perché appunto c'è un intreccio tra un mafioso e la nostra industria della difesa che viene in un episodio dentro un'ambasciata. Ora, su questo episodio si può costruire tutta una serie di commenti che a me personalmente permettono di dichiarare come le cose dovrebbero essere fatte, perché l'industria della difesa ha delle regole molto precise e ci sono delle deviazioni che bisogna evitare. Questo libro per me è un aiuto ad evitare queste deviazioni per il futuro. Oggi sono state prese molto contromisure, non è più possibile che oggi accada una cosa del genere, però la memoria serve proprio ad evitare che le cose si ripetano nel futuro.